Sì, il modello può essere, se vogliamo dire la Spagna, diciamo la Spagna, ma noi dobbiamo riuscire ad avere un nostro modello. L'obiettivo è appunto quello, è riuscire a far parlare noi come modello d'aria. Noi dobbiamo studiare tutti, guardare tutti, però non dobbiamo dimenticare la nostra storia, non dobbiamo dimenticare il nostro modo di concentrarci. Quindi bisogna migliorare, sì, bisogna avere una nostra identità, una nostra mentalità che sia dipendente dall'avversario che andremo ad affrontare. Quindi il nostro modo sarà sicuramente di giocare e sarà sicuramente in questo senso. Anche se poi c'è ancora da migliorare, ma anche anche con le altre nazionali, a mio avviso, è diminuito tantissimo, perché non solo con la 21, ma dalla 21 alla 21 noi adesso affrontiamo nazioni nazionali con le quali fino a qualche anno fa non c'era veramente partita. E oggi posso garantire che in tutte le nostre nazionali ce la giochiamo. Quindi il lavoro che stiamo facendo in questi ultimi tre e quattro anni secondo me è stato molto importanti. Sempre in breve ci siamo visti, non ci siamo sentiti ultimamente, ma lo faremo breve perché insomma il lavoro che dovrò fare sarà in sintonia in maniera più assoluta con la nazionale. E con Marco e con tutti gli altri collaboratori abbiamo delle riunioni mensili dove ci confrontiamo e dove facciamo il punto della situazione su tutti i ragazzi, quindi continuerà questo tipo di rapporto con tutti gli allenatori e non sarà più veramente una novità. Grazie. Grazie.